Cosa c'è? I boccettini, i boccettini, ho freddo! I boccettini? Che boccettini ti do? Quelli lunghi, così! A comando abbiamo già dato il numero 18, ma... Quelli lunghi non ci sono! Vai, Paddy! Metti un rapporto più agile e fai girare le gambe! Che ti sta imballando! Forza! Fai uno scatto e vai là davanti e metti il tipo a menare! Come abbiamo fatto in allenamento, uguale e identico! E ti passa il freddo! Va bene? Dai! E lo so che c'hai freddo! Io non ci posso fare niente! Vuoi venire un po' in macchina? No! Qualcosa di caldo c'è? Lei ha voglia! Ci fermiamo al bardacelli e facciamo un tè! Vai in testa e mettiti a menare! Non stare a ruota! Lo so, Matteo, che c'è freddo! Grinta ci vuole! Grinta! È uno sport di merda! È uno sport di merda! Grazie